Easy anche quest'anno è qui presente al SAIE di Bologna con la collettiva di successo presentata due anni fa a Bologna portata anche l'anno scorso a Bari. Piazza Easy è appunto una collettiva quest'anno con 32 aziende molto strutturata anche nelle parti comuni con un'area istituzionale, un'area per i rapporti professionali un'area eventi con convegni continui per le quattro giornate di fiera e un'area bar a disposizione dei nostri espositori e degli associati. Quest'anno porteremo tematiche molto importanti per quanto riguarda la sicurezza delle strutture e infrastrutture eventi gestiti dalle nostre aziende, presentati dalle nostre aziende sulle tecnologie innovative antisismiche seminari per l'aggiornamento professionale con crediti formativi su temi come il codice dei contratti, il decreto salvacasa eventi con i nostri partner e anche tavole rotonde istituzionali. Per noi Easy è molto importante essere qui anche quest'anno con le aziende associate per sensibilizzare e promuovere la cultura della sicurezza antisismica temi come la sostenibilità, la sicurezza, le tecnologie sono per noi temi assolutamente fondamentali. Quindi ecco invito tutti a venire a trovarci in Piazza Easy Padiglione 25 alla Fiera SAI e Bologna.